e adesso entriamo in convento e ritroviamo un amico carissimo fra pasquale cianci ben trovato fra pasquale buona giornata a tutti e buona domenica grazie anche a voi buona domenica allora entriamo in convento perché ci mancate tanto e mi faccio portavoce di tanti che ci scrivono ci contattano vogliono sapere questo come state allora ecco noi abbiamo bisogno davvero tantissimo delle vostre preghiere e vi ringraziamo alcuni di noi sono risultati negativi grazie a dio perché questo permette che possiamo metterci a disposizione degli altri fratelli che sono in necessità alcuni in modo più evidente sono risultati asintomatici anche se comunque giorno per giorno temiamo che magari i sintomi possano aumentare manifestarsi con insomma delle sorprese un po' più spiacevoli però fino ad ora questo grazie a dio è stato evitato credo anche grazie alle vostre preghiere sicuramente io ti leggo alcuni soltanto alcuni dei tanti messaggi che arrivano sia sui social che con altri mezzi tanta vicinanza tante preghiere per la comunità dei frati cappuccini che il signore vi protegga ci mancate vi vogliamo bene ed effettivamente sono arrivati in ogni sotto ogni forma in ogni modo alla comunità dei frati dopo la chiusura del convento e il blocco delle messe in presenza dei fedeli noi abbiamo ascoltato la comunicazione ufficiale arrivata attraverso questo canale dal vescovo padre franco moscone che si è mostrato ovviamente provato ma anche compassionevole noi sappiamo la compassione come va vissuta soprattutto per i cristiani e come si vive ci sentiamo parte della famiglia quindi nella sofferenza ci ritroviamo a soffrire insieme a voi anche se non è la stessa cosa fra pasquale come avete diciamo come siete arrivati a questa decisione inevitabile dopo tutto perché effettivamente chi sa chi vive il vangelo sa che il signore è presente nei sofferenti come lo stesso padre franco sottolineava nei medici che li curano nelle persone che soffrono siamo arrivati a questa decisione non da soli ma come hai detto tu anche con la presenza del vescovo accompagnati non solo da un pastore ma davvero da un padre sin dal primo momento in cui si è verificata questa necessità padre franco è stato con noi in comunità ed è stato lui ad accompagnarci a guidarci e a consigliarsi con noi quale poteva essere la migliore soluzione e devo dire anche la verità ecco personalmente io posso constatare che il vescovo ogni giorno si informa e chiede personalmente come stanno i frati e quindi mi raggiunge ci raggiunge attraverso anche i mezzi di comunicazione messaggio whatsapp chiede come stiamo e davvero io approfitto per ringraziarlo perché davvero come io solitamente lo chiamo padre ecco è un padre un padre a tutti gli effetti un'espressione mi ha molto colpito quando tutta questa situazione stava per cominciare ed è proprio una parola che lui ha pronunciato nel nostro refettorio quando insieme abbiamo dovuto prendere delle decisioni e lui ha detto siamo un'unica famiglia davvero in quel momento io ho sentito proprio i brividi nel corpo e anche il calore davvero il calore ho toccato con mano che la chiesa quando si vuole può diventare sacramento di un'unica famiglia sicuramente questa famiglia si fa sentire anche in senso allargato ecco nel senso positivo del termine è una famiglia allargata perché tanti poi vi seguono attraverso ovviamente padre più tv ma anche attraverso i social che ormai sono entrati nelle case di tutti anche i più anziani ormai smanettano con questi mezzi quindi è facile ritrovarsi vicini e sia poi con il vescovo tu lo mettevi in evidenza questo senso di protezione da parte sua nei vostri confronti in modo particolare di paternità davvero anche in alcune decisioni in merito ad alcune decisioni è entrato lui direttamente come diciamo lui lo ha spiegato anche in quell'intervista anche quella spiacevole decisione anche di chiudere tutti i luoghi tra questi luogo anche più sacro quello della cripta ma questo per preservare non solo la nostra di salute ma soprattutto la salute dei fedeli e infatti è bella quell'espressione presa anche dalla dall'enciclica del papa no l'evangelii gaudium dove dobbiamo salvaguardare i credenti prima che il credo a volte quando ci si sofferma solo sul credo si dimentica la persona l'umanità e questo è insomma non è vangelo perché Gesù si è incarnato quindi incarnandosi ha dato un posto previmente alla persona all'umanità e nell'umanità che si rivela poi si manifesta anche il credo il credo senza il credente sarebbe una pura astrazione è vero così come con i libri evidenziava anche questo padre franco dobbiamo proteggere i credenti e dobbiamo proteggere le persone queste persone che si sono fatte sentire tanti giovani poi tu sei animatore della pastorale giovanile vocazionale tanti giovani sicuramente si faranno sentire anche in questo momento ma ci pare insomma che abbiano cominciato da subito dal primo lockdown e non vi hanno insomma mai lasciato perché tante sono poi le attività proseguite anche attraverso i canali canali social sì noi diciamo che le attività della pastorale giovanile solitamente come avvengono tramite weekend vocazionali incontri personali dialoghi ecco per ora sono un po ferme però i mezzi di comunicazione whatsapp ci permettono ecco anche attraverso una videochiamata di poterci guardare negli occhi e questo ecco ringraziamo il signore anche di questo e credo in questo momento soprattutto nel potere della preghiera perché mai come in questo tempo abbiamo ho avuto la possibilità di pregare di più e credo che la preghiera sia davvero la prima e forse l'unica rete che mette in collegamento tutti quanti noi forse non in un modo così disponibile ed evidente come lo sono i mezzi di comunicazione ma quando uno prega può raggiungere tutti lascia fare addio poi di poter agire ovviamente con lui la connessione non viene mai a mancare c'è sempre fissa mai problemi in quel senso speranza riporto le parole di papa francesco poi li lasciamo andare fra pasquale speranza e gioire per quello che c'è invece che lamentarsi per quello che manca e non stancatevi di accentuare il vostro impegno in favore dell'umanità che in questo momento sta soffrendo e tanti soffrono proprio sulla sulla loro pelle voi ormai state sentendo anche questo vi sentite in comunione anche in questo senso fra pasquale ci sono poi i negazionisti no quelli che prendono sotto gamba alla luce di quanto è successo cosa vuoi cosa vuoi dire c'è un messaggio che vuoi lanciare a questi sordi se vogliamo a questi ciechi ma credo che nessuno voglia recitare una parte tutto quello che stiamo vivendo è assolutamente molto serio e concreto reale io voglio aggiungere un'altra cosa a questa esperienza che noi stiamo vivendo perché il convento ecco lo sentiamo davvero nostro come una casa e questa forse più di tutte l'occasione attraverso la quale noi davvero possiamo mostrare i nostri frati più anziani la nostra vicinanza la nostra filialità quella fraternità che si esprime attraverso anche un piccolo gesto come bussare alla porta e dire hai bisogno di qualcosa ti porto alla colazione qual è la temperatura oggi il termometro ecco che cosa dice e come ti senti ecco perché davvero tutto questo da parte nostra per noi è un'occasione per mettere in pratica quelle che poi sono diciamo quelle quelle realtà che noi comunichiamo attraverso la predicazione attraverso la parola ora è tempo davvero di agire di mettere in pratica anche è vero siete una famiglia così come ognuno di noi ha la propria famiglia a casa e quanto fa fa tanto davvero avere qualcuno accanto perché ultimamente si sentono anche storie tristi di chi purtroppo rimane isolato e isolato anche fisicamente proprio per via di questa emergenza fra pasquale voglio chiudere mostrando una foto un'immagine che ovviamente l'abbiamo recuperata dai social perché fra nicola monopoli il tuo confratello è molto social e l'ha postata qualche giorno fa noi ci auguriamo insieme a voi che possa ritornare tutto come era prima ecco tutti i frati confratelli attorno ad una tavola per gioire insieme al signore e allo stesso tempo farci gioire e ha postato questa frase tutta la fraternità di san giovanni rotondo esprime l'immensa gratitudine per la vicinanza e l'affetto che in tutti i modi ci state comunicando ovviamente si spera che le cose migliorino noi preghiamo continuiamo a pregare per tutti voi e sentiteci accanto nei vostri cuori sì e voi sentite anche le nostre preghiere perché salgono da un altare non non solo della liturgia ma da un altare della prova ecco il sacrificio è anche questo e quindi ha un valore ancora più più concreto più reale grazie fra pasquale grazie porta un abbraccio a tutti i frati anche quelli più anziani e a presto ciao a tutti